Taglia il traguardo delle 20 edizioni Immagini di Notte, rassegna di cinema all'aperto organizzata dall'Associazione Lo Scoiattolo di Albino e ci troviamo proprio nel chiostro dell'ex monastero di Sant'Anna dove vengono effettuate le proiezioni. Che cosa c'è in programma per questo ventesimo anno? Ci sono alcune iniziative oltre alla classica iniziative che proponiamo tutti gli anni. La rassegna si sviluppa sempre tenendo conto dei gusti e dei generi diversi di pellicole. Quindi il lunedì e il martedì è dedicato alla programmazione un pochettino di intrattenimento, il mercoledì e il giovedì alla qualità e il venerdì e il sabato alle famiglie all'avventura ai cartoni animati. Quest'anno, come ogni anno, abbiamo delle iniziative un po' collaterali alla rassegna che si terrà comunque dall'1 luglio fino al 24 agosto. Quasi tutte le sere ci sarà una proiezione, quindi ci saranno più di una trentina di film e una quarantina di serati. Dicevo, queste iniziative collaterali sono quattro incontri con l'autore, quindi verranno dei registi o dei protagonisti dei film che verranno proiettati. Ci sarà un'iniziativa inedita per la provincia di Bergamo che sarà il Multichiostro. Questa si svolgerà alla fine, dopo ferragosto, a conclusione, a termine della proiezione. sarà una settimana dove ogni sera verranno proiettati due film in modalità silent party, cioè verranno date delle radiocuffie agli spettatori che sentiranno il film che viene proiettato. Quindi con questo sistema, con questo modo, si potranno proiettare due film in contemporanea. È una multisala all'aperto che non esisteva e ci sarà. Che film avete scelto per il Multichiostro? Per il Multichiostro saranno abbinati due film ogni sera di generi diversi, quindi avventura e qualità, bambini, commedia, così. Quindi ci sarà Lion, ci sarà un musical, comunque sono tutti film usciti nell'anno, e recenti, comunque la programmazione, visto che è molto corposa quest'anno, è possibile consultarla sul sito dell'associazione che è microfonoaperto.it. Innanzitutto ci tengo a segnalare che il Comune ci sostiene, come in tutte queste 20 edizioni, in pratica l'organizzazione è curata dall'associazione dello Scoiattolo, sostenuta dal Comune. e collaboriamo con diverse realtà locali, ad esempio per incontri con l'autore, c'è Riparte, c'è la cooperativa La Fenice, c'è il Studio Balini, che collaborano a realizzare questo contenitore nel contenitore. E poi ci sono delle serate tematiche speciali, organizzate con dei gruppi, delle associazioni di volontariato del territorio, o cooperative, ad esempio abbiamo una serata speciale con la cooperativa Generazione, che si occupa di anziani, proporremo il film Stile Alice, che parla dell'Alzheimer, della malattia dell'Alzheimer, poi un'altra serata con la Fondazione Cardinal Gusmini di Vertova, dove proporremo un altro film sui temi dell'Alzheimer. Questa serata è organizzata da Caffè Itineranti, che fa parte della Fondazione Cardinal Gusmini. Un'altra serata è organizzata con il Mercato Agricolo e non solo, che raccoglie agricoltori che producono a chilometro zero e che propongono ogni mese il mercato a chilometro zero ad Albino. Il tema è l'apicultura, perché il film che proporremo sarà sull'allevamento delle api. Un'ultima iniziativa, credo anche questa carina, è che vengono coinvolti tre ristoratori, che proporranno nei loro locali il menu Cene e Cine a un prezzo fisso. In omaggio, un ingresso al cinema, potranno scegliere il film che preferiscono nel corso della rassegna.